Noi, mei amici siamo 30K No vivo, no vai, le batalhe contro baguette Ma se pensi che siamo in giugatini Allora uno non sa chiare il vero del palazzo Hey, cosa mi resta il posto mio Per mandare per sempre quel portico mio Eh no, che non è possibile perché Sempre facciamo la spia, allora sei come una scia Siamo ogni conto dai mandrè Pridiamo per l'età E sta appena sconfitta per la volta E da mancata risposta tra i conti Amo giustizia Protagonisti assoluti nel cartone Arameggio, tu non sei cos'è La nostra condizione I scavi del panore Il copione è un bel maio Che è la gianta cassina In partenza Sai come vivi da Come l'uomo vive anche Peggio, fama la volta Per due amici Non abitare l'incidenza Quello è un bel maio Amico, l'uomo è che siamo 20K Ma check in faccia E da mancata risposta tra i conti Il compione è un bel maio Qui vengono per la volta E da mancata risposta tra i conti Che è la testa E da mancata risposta tra i conti I conti Numso di mancata risposta tra i conti Di conti Gli permono più Li embono più Il giorno di grande tempo di percorrettezza, quando il cattivo avrà, ciò che gli spetta, riscattando il suo passato con un'ansia, con questa distruggendo il suo ritmo, il tuo protagonista. Il giorno di grande tempo di percorrettezza, quando il cattivo avrà, ciò che gli spetta, riscattando il suo passato con unlagenato di percorrettezza, quando il caso intermettezza. Il giorno di grande tempo di percorrere sono ilối, tra riscattando il suo passato con un'ansia, con questa distrutta, riscattando il suo passato con un'ansia, con e così pausa e che gli spetta è possibile. Grazie a tutti.